Sono Elisa Pinsoglio, Alex Bergamini, Paolo Ugetti, Lorenzo Kanzin, Cavalones, Daniela Mastrilli, Irene Moroso, Davide Di Labbio, Massimiliano Monfreda, sono Rabia Mdan, Alban Procu, Matteo Gnolin. Se pensate di un business come il football, noi coach le compagnie per vincere il loro gioco e essere i migliori in l'industria. Una parte importante del mio lavoro è di creare un ambiente in cui i nostri consultanti potranno strive e dare le migliori versioni di loro. Mi occupo di consulenza principalmente in ambito HR, quindi vuol dire che aiuto le aziende a trovare soluzioni su questioni che riguardano principalmente le persone. Lavoriamo nel business consulting e aiutiamo le aziende a raggiungere i loro risultati e nella maniera più innovativa possibile. I say hello to everyone, I get my computer from the lockers and I start working. And then a little bit later, it's the coffee time. I order a pizza. Really. Signori, vi auguro una buona serata. Signori, non c'è più nessuno. Gioco a palla con rabbi e sono più bravo. Controllo di aver scaricato il biglietto aereo. Parigi, Berlino, Francoforte, Toccolma, Vienna, un po' dove sono locati i nostri clienti. I say bye to my colleagues, I order a pizza and I tell some of my colleagues to watch their back. Cerco di analizzare i pro e i contro di tutte le alternative. Se riesco mi confronto con qualcuno. Se raggiungo un buon risultato scelgo quell'opzione, se no faccio una scelta di pancia. Solitamente cerco di estranearmi dal mondo che mi circonda e soprattutto considero tutte le conseguenze di quello che sto per decidere. Cerco di medesimarmi nelle persone che poi verranno influenzate da questa decisione. Cerco di guardare i fatti, come possibile, e parlare anche con molti miei colleghi per ottenere diverse opinioni. E, ultimamente, cerco di guardare da diversi angoli, nonconvenzionali. Adesso ho cambiato le locazioni, entro alla scuola o alla scuola, o alla scuola o alla scuola, o alla scuola o alla scuola. Uso la musica e mi concentro abbastanza facilmente. Quando sono con i colleghi, mi immergo in conversazioni con loro. I try to meditate before important meetings or decisions. E fai, wow, sei, sei, sei. Eterogenei. Brilliant, super smart. We joke around when we can, but we're serious when we have to be. Fantasiosi, entusiasti. Inspired, crazy smart. Ce ne sono tante. Il manager training a Yale. Recentemente ho avuto l'occasione di partecipare al Female Leadership Program, che è un programma che si è tenuto a Berlino, in cui sono state invitate una serie di consulenti donne. E' sicuramente Berlino, la B-School, una settimana di training. I giorni all'Innovation Lab. D'etro engagé su un progetto internazionale e de voyagé a traverso l'Europa, per le business come business analyst. Bering Point è innovativo. Ci sono delle opportunità internazionali. L'entusiasmo, principalmente. Bering Point è una famiglia di persone appassionate e molto determinate in quello che vuole. Hashtag family. Taking business to the next level of innovation and performance. Reinventing consulting. Un brand di consulenza sempre più conosciuto e apprezzato in Italia. In grado di anticipare i cambiamenti e reagire agilmente. Rilevante. Sempre in crescita. Probably the market leader. They will become the market leader in digital transformation for companies around the world. Infr siamo liberati in Italia. Bering Point. Non rokipora perché è gült Eigenale. Non